Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale, oggi siamo in un altro video di ricordo dove andiamo a provare la nuova abilità di classe Desperado Ho fatto le missioni per la prima volta nella mia vita soltanto per andare a sbloccare questa nuova abilità di classe che è una figata Leggeremo le specifiche durante il pre partita e come potete vedere ho anche aggiornato la mia skin ovviamente E anche l'arma se state vedendo, una K117, esplosione di colori si chiama la skin, molto forte ragazzi vorrei andarlo a provare pure quello in battle royale perché non l'ho mai provata Quindi oggi tutto nuovo però il titolo di questo video sarà andiamo a provare Desperado e quindi il video è incentrato su Desperado Andiamo a fare altri tipi di modalità, andiamo a fare il classico e proveremo a vincere però sapete già come funziona ragazzi il battle royale Come funziona la mia vita di M e come funziona tutto Siamo qua, guardate per sbloccare Desperado quante ne ho dovute comprare perché non le ho sbloccate e le ho dovute comprare dal negozio Ecco qua Desperado Torretta scudo, posiziona una torretta schermata che garantisce munizioni limitate per tutta la sua durata Sopravvivenza, è questa la parte che mi piace di più Combatti per sopravvivere usando una pistola quando sei a terra Esegui un'uccisione mentre sei in questo stato per rianimarti Ah proprio così Ah Madonna quanto rumore La sentono pure mosso a poligono di tiro, la sentono a paludigiali da questa torretta Ah la casetta è proprio qui Non ci penso proprio Ormai la casetta ragazzi non ci vado più Perché non... non worka Cioè scendi, ci sono troppe persone E non voglio stare lì ragazzi proprio a traiardare, traiardare Perché ti va bene una volta su dieci E sinceramente no, no, no Sono anche in singolo per cui ancora di più Allora, siamo proprio in una traiettoria di M posso dirlo Io scendo a Mercato Nero Anche se in traiardoria, sì ragazzi lo so Traiettoria, ci sono tantissima gente Però ma Mercato Nero comunque si va subito dentro al bunker E più o meno si può giocare Io vorrei andare da ragazzi dove è giocabile Ovvero da nessuna parte ormai Però comunque bisogna anche usare un po' di strategia Perché comunque i posti sono questi La mappa non la cambiano Quindi bisogna un po' adattarsi Ecco, già sento Già sento Mamma mia, già sento la guerra Fammi prendere un'arma Ok Ah, sto lancio ai razzi Buono come il pane Sto usando solo quello in Battle Royale Niente più cecchini Sì, lo so, sono molto triste Però Ok Allora, come arma secondaria Ha preso una moto Se ne sta andando Bene, bene, bene Se ne sta andando Sto cardit Lasciato qui Che bello ragazzi luttare È una delle mie cose preferite No Ci verrà un sacco di gente qua E io rimango qui Allora Pischi Perfemme Chopper Assolutamente Sì Mamma mia Ma dammelo il chopper C'è chi non lo conosce ancora Però guardate i miei video ragazzi Ve lo lascio qui in alto Dove vado a scoprire questo bunker Perché io ci sono andato proprio A casissimo qui E meno male che ci sono andato Però molti prima di me lo conoscevano Secondo me Allora Qui dentro il bunker Penso che non ci sia più niente da Fare A parte Prendo un po' di punizione adesso Dai Già sento spari dovunque Comunque Ovviamente Ma giusto così Giusto così Tra un po' metto la torretta al centro Ma no Sarebbe troppo Troppo Ma c'era anche qui il chopper Ma dai Sento passi Dov'è? Dritto di fronte a me Madonna Che riflessi Ragà No Guarda come scappa Eh lo inseguiamo ragazzi Si è andato subito a rintanare Guardate Guardate Coglione Guardate 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 Che odio Sti giocatori Che odio Che odio Avevo anche un'arma Eh Un'armetta Dai Quanto danno Mi ha tolto Sto stupido La mettiamo lì Tanto bello Quando incontriamo qualcuno Papam Però È Tipo super pazza Sgravata Ma veramente Troppo 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 Ragazzi Ma troppo Troppo Cioè se tu la metti Sei OP Però devi saper Metterla E ovviamente Io qui Neanche ci posso stare Ragazzi Cioè potrei Andarmi a fare il boss Però Oh No vabbè Mi sta venendo Un'idea Pazza Andiamo Al boss E usiamo La torretta Per sconfiggere No no E comunque Si sta fermi Ragazzi Non conviene Neanche Però quasi quasi Ragazzi Mamma No 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 Però sarebbe Troppo Dov'è Ah ciao Ciao pico mio Dove sei Amico Ah eccoti Vabbè ma A inizio game Voglio dire I scandali No eh Ma la torretta Che vuol dire La torretta Con l'abilità Di classe Ora ci sto a pensare Che fa più Da No no Ma è possibile Che Quante persone Ci sono qui Madonna Dov'è È sopra No eh E io lo frego Rimango qui sotto Non vanno mai A finire bene Ste cose Mannaggia Allora Allora devo Beccare Per forza Io Non mi può Beccare Lui No 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 Mannaggia Che paura Dov'è 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 Oddio mio Che ansia È qui È qui È qui È qui È qui Ah Ah Madonna Che paura Che paura Madonna mia Vi siete scemi Scemi Proprio al cardio Non aprire quella porta In tutti i sensi Non salire mai qui Mettono tanta ansia Ste cose Ma veramente Tanta ansia La zona ancora Non si rigenera Io direi Direi Di andarci a prendere L'elicottero Però devo capire Dov'è il dropper Di elicotteri Sì perché Non ancora Mi sono imparato Dove stanno le robe Che pizza Allora il bunker È lì Deve Deve essere qui Il dropper Di elicotteri Che cavolo Ah ecco l'elicottero Opposto Posso andare lì Devo vedere Dov'è la nuova zona Perché se sto punto La zona Troppa qui Io rimango qui A mercato nero Ormai è diventata La mia ca No No Sento Ancora passi Ma che È uno zombie Quello No Quello è una persona Quello è una persona Sto ciopper È instabile Voglio una K117 Type No Dov'è Ancora Mamma mia Cinque persone Ucciso qui Ragazzi Che palle Che palle Poi hanno tutti Lo stesso loot Non è che hanno Qualcosa di interessante Non hanno veramente Niente Allora Posso andarmene Oh Erano tutti qui Oh Mannaccia L'importante però È d'essere pipi Anche se non siamo a piena vita Però Sinceramente Quando sei a 135 Io I lacce molastici Non li puoi usare I medic kit Neanche E io le adrenaline Per 135 Di vita Non ci pensate Nemmeno che Le spreco Allora Lì c'è un airdrop Già luttato Quindi posso Sorclassarlo Assolutamente Io Il boss Direi È già stato luttato Quindi Neanche Direi di andare In qualche Montagnetta Sperduta Comunque Così che non abbiamo Più problemi Dai Sì Andiamo a quello di pipelina Sempre se Riesco a trovare questo Aia Mamma mia Ma lasciata d'otto Che aveva Il chopper Eh vabbè Mi sparava pure da sotto Ok Ehm Andiamoce ne Via di qua Io voglio andare Da un airdrop Già lottato Per andare A prendere il mio AK Sì Grazie Grazie Addio Addio Vai 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 al dropper No No Meglio quello di farm Perché Che palle Oh L'airdrop Raga Qua ci muoio Ve lo dico Oh Che cavolo Vabbè Sono pure Stupido di mio Quindi Aia Zitti No 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 Che palle Centrocittà Ragazzi Non è da sottovalutare Io ho quattro Ho già un elicottero Allora L'arma Dobbiamo avere solo un'arma Per difenderci qua Poi io Vado direttamente Ragazzi All'elicottero Per prendere la mia Di arma Questa volta Ce la giochiamo Così Così Già sento Assi Per favore Un'arma decente Ti scongiuro Ti prego Non voglio già Prendere l'elicottero Per favore Vorremmo lottare Qualcosa Ok Va bene La K Bianco Va benissimo Guarda Va bene Va più che bene Va più che bene La K Pure bianco E più forte Dell'asmo verde Detto cazzato Sì però Cioè Ma che cavolo Cioè Un'arma più decente Mo veramente Dai Pistola verde Oh Già è qualcosa Eh che cavolo Già è qualcosa Io non pretendo Di trovare Un Un cecchino Leggendario Però Meno di trovare Qualcosa di decente Dico io Cioè Non Sì Munizioni leggere Non me ne servono Però Cioè Sincero Amico Ok Sei sceso Mamma mia L'ho sciolto Aveva le mie stesse cose Ovviamente Allora Trenta secondi La zona Eh Sì Vorrei aspettare L'airdrop A questo punto Anche se La zona Già si sta facendo Insidiosa Sì Va bene il chip Allora Già Vedo un altro elicottero E questa cosa Mi triggera Tantissimo No E ora Ora l'airdrop Ma che palle Mo ci serve una macchina Ci serve qualcosa Uffa Che pizza Quando succedono Queste cose Io mi devo Incavolare Sul serio Ma che palle Ma che Eh Grazie a sto Grande cavolo Ci può droppare Almeno vicino Non è che sto messo Molto bene Di loot Solo per andare A prendere Quel cavolo No dai No 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 Davanti a me Come sempre Si è messo La protezione Vero Ti sei messo Difensore Come abilità Di classe Oh Almeno Avevo un buon loot Almeno Almeno Airdrop Oh Oh Ti prego Droppa qui Droppa qui Ti prego Ti prego Ti prego Non andare lontano Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Dove 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 Stai andando No Ti prego Vai vicino Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Dove cavolo Stai andando Vabbè Amo un culo Ma te No Forse neanche tanto Dai 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 Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Corriamo col bastone Ragazzi Con il bastone Quando me in partita Ragazzi il mio K117 Sarà una bestia Se c'è qualcuno Io piazzo la torretta Lo dico E lo faccio Assolutamente Piazzo la torretta Già sento spari Ovviamente Sì Ma anche se è luttato Potrei aspettare Che gli altri Se ne vanno Per poi Prenderlo io È lì È l'altra parte Della montagna No ma che Perché Ora mi devi Spiegare il perché Ora mi devi Spiegare il perché Ragazzi È arrivato il momento Fancuto Dove siete Eh 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 Si scarica Secondo voi Uno è vicino a me Mamma mia Mamma mia Non fa niente Questa è una partita Bella Dove mi stanno Sparando Da là Uno se ne sta Andando Molto bene Molto bene Questa torretta Mi piace Da dove stanno Sparando la torretta No No Mori Viene Em Io vado Dall'airdrop Dritto per dritto Ragazzi Non me ne frega Un cavolo Non me ne frega Niente Non me ne frega Niente Dritto per dritto Ragazzi Dritto per dritto Ma no Ma c'è pure Un elicottero Ok Nuova tattica Nuova Tattica Stiamo camperati Su questa montagna No Perché spara A caso Ma lo vedete Chiudi sta porta Grazie Grazie Ok Em Giubbotto Meglio di questo Assolutamente Dai 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 Vai muoviti 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 Arsenale Arsenale AK117 Conferma Conferma A posto Ce l'abbiamo Ragazzi Ce l'abbiamo Il nostro AK Ce l'abbiamo E anche forte La K Ora dobbiamo scappare Dalla zona Quindi Ram Ah Mica male Eh Allora Io Non vado in zona Guarda Rimango qui Chiudo la porta A posto Non si sente Un'anima Viva Tutti camperati Ok Adesso 32 Vediamo Che armi Hanno Allora C'è un AK117 Forse Viola Ci sta Uno forte Che ne ha Ammazzati Due Ci sta Un altro AK117 Oppure Delle armi Personalizzate A questo Punto Io Oserei Dire Ragazzi La torretta Qua Ragazzi È a posto A posto Però Aspettiamo Che la zona Si riduca A questo Punto Qua ci muoio Assolutamente Perché Sto in una posizione Posso dirlo Di merda Ah Vabbè Ma No Per poco Ragazzi Per poco Non lo uccidevo Eh vabbè Eh vabbè Spero che il video Vi sia piaciuto Un saluto a tutti Alla prossima Ragazzi E boom